ehi mamma guarda che non mi piace oh la mamma lì wow pranzo qua dentro buttavano il carbone ecco si usciva il fuoco si creava il vapore e il treno con la pressione poteva andare avanti eh però non ne hai più no devi stare fermo pranzo Franci ti puoi dire il carbone eh Franci 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 Grazie. 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 Grazie.